E dove noi iniziamo il vlog di Luca? Dal bagno dell'autogrill Che si chiede di quella we happy few Tipo Te ne sei fatta di gioia Ciao 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 Siamo tutti in coda Siamo tutti uguali davanti alla coda Bip Ciao In realtà io sono molto carina e pucciosa E' vero non è carina e pucciosa Non è vero non è il male E' che tutti siamo il male quando guidiamo No è che cioè Bip 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 Davi in coda Anubi Anubi soprattutto Anubi Anubi Un globulo Un Capitan Arlock E noi rifless Grandi Braccio così Ah quello su così Sulla tua faccia perché dopo mi capire un po' la faccia Perché altro non ce la faco Allora è più giusto così Non ce la fate Io le tengo la mano sulla schiena Esatto Perché è così questa mano Però non ce la fate perché poi già vede il braccio Perché lo so che mi dice sul blog Questa cagata La sua testa è fa perché usa il braccio per coprire la faccia Sì ma Il braccio del marinaio è due volte Pesa al bacino di Aki Capitano Ackerman Ho una bruttana tutta da darle Dico Abbiamo finito il nostro Meraviglioso La tica la prendo dallo specchio Ciao 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 E piove Io sono stata messa in castigo nell'angolo Ma che bellissima Allora io volevo solo dire che sono la prima a dire che le porte aperte sono bellissime Però sappiamo una valonga di gente in casa Elsa Questa cosa è molto strana perché tu mi avevi detto che arrivano un po' di persone Invece ci sono tante persone C'erano tutto il germino a pieno Ah perché abbiamo delle palme Elsa? Noi non dovremmo avere delle palme Come hai fatto a far mettere le palme? Non lo so perché Questa è una palma Wifi 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 Piove Piove davvero tanto Piove davvero tanto Un po' di Vai Nico puoi fare di meglio Mio vicino Punta un po' pirata Nico 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 io video volevo solo dire che io sono in fontana e Ralf no ma io sono in fontana e Ralf no è una giojo reference buona 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 cucchiaone cucchiaone principesto qui si conta agente disney c'è qualcuno perché siamo noi siamo giù ma siamo anche lì e ricordatevi sempre stendo braudo e comunque lui la medaglia l'ha rubata e io l'ho rubata a lui allora sono di nuovo qua che sono stata tipo ieri sono le ultime ore c'è una cosa che io non ho ancora fatto e sto andando a fare ed è una foto slash un video con la donna più figa dell'universo e va bene dire più figa dell'universo e la vedo aspettate arrivo ci sto andando tanto guardate che la stinchi che è bello ciao la donna più figa dell'universo lì la vedo c'è della gente da me e quindi posso sì ok sto per avermi figa l'universo scusa è troppo grande aspetta ecco l'è qui il dottore tanto tanto amore per il dottore ce n'è anche un altro che si vede molto bene ed è molto più grande e io andrò a riprendere anche quel pannello lì perché non ho potuto bere tre giorni e ora niente io devo avere devo essere nello stesso riquadro con la mia jodie e io sto continuando a parlare lì andrò guardate grattastinchi guardate grattastinchi guardate grattastinchi guardate grattastinchi grazie tanto mi fanno i complimenti al gatto è bellissimo ho un gotto stupendo sto continuando a andare so che è lì ci sono un sacco di pannelli fighissimi e io so che è anche abbastanza alato scherzavo è il è il no è là in fondo ma c'era non è questo vediamo oggi se ne sono un po' ma non è questo è questo è questo lo vedo lo vedo lo vedo eccolo ta 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 whence è bella forte quanto è bella quanto è bella poi ci sono tutti superasi sii ci sono tutti bellissimi ti adoro E niente, quindi ho un debito, io odio avere debiti, ma ho un debito di 7,50€ nei confronti di un'amica che salderò nei prossimi mesi perché io tra poco parte non riesco a rivederla e questa cosa mi urta, non mi piace avere debiti, ma ripeto, se cerchi un Todoroki quest'anno e vai in fontana e urli Todoroki si girano almeno in 25 e nessuno di quelli sarà l'amico che stai cercando, quindi è finito, un altro Luca Gomi, è finito, come se lo sento che è finito? Stanco, e niente, è già flippato per l'anno prossimo, quindi adesso Luca 2019, road to sit, assolutamente sì Assolutamente sì, quindi lui è già flippato per il 2019, io e il gatto siamo stanchi e adesso ci aspettano un tot di ore di macchina o un sasso nella scarpa Ciao Luca, scusate Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere E' piove E' piove